Questo signore, questo cardinale che si chiama Pelle, è accusato di numerosi stupri nei confronti di minori. Dimmi ora che cazzo c'entro io su questa cosa. Siccome il Papa è il tuo amico, te c'hai le foto col Papa, questo è il braccio destro del tuo amico. E che vuol dire? Vuol dire che quando... Anche te il tuo braccio destro c'è qualche caccia, l'ha sotto il braccio destro. Che faccio le seghe, l'unica caccia. Che mi fate le seghe, sì. Col braccio destro che posso fare. Allora, siccome questo signore qui... Ora signore, prima una finoccia, dai, su. E' uguale, è uguale. E' un pedofilo. Ti fa un po' di confusione. Sì, ma sono confuso la mattina, mi va a fare la sera. No, io ti volevo dire, siccome fanno i spot, domandalo per l'8x1000, per il 5x1000, domandalo a suo organo. Domandalo a Pell, che ci piglia Pell culo, perché si fa i bambini. Lui? Si fa i bambini. Ha fatto un bambino? Fa da... Come si fa i bambini? Non va a parlare con questo. Hai detto si fa un bambino. Ma te che hai studiato dagli scolopi, te hai studiato dai frati. Sì. Lo sai, no? Sì. Dovresti sapere che nel mondo dei prelati ci sono molti pedofili. È vero? Sì, è vero. Allora, al Papa, che ha le soluzioni per tutti, anziché tenere intorno sta gente qui... Ma come fa a saperlo, Papa? Per esempio, te, te, Arezzo, mi chiesa quasi niente, nessuno. Come fa, Papa, a sapere... Come fai? Quando uno nega l'evidenza... Ma sarà evidente, ma l'hanno scoperto ora e lo manderanno. L'hanno scoperto ora? A questo l'hanno scoperto ora? Eh, prima era tutto confesso. Sono invecchiati, quelli che ha sodomizzato, sono invecchiati. Sì. Non sai? Sì. Alla tua età. Sì. In caso tu sia stato uno di quelli. Ma non ero cardinale, l'ho presa il culo. Eh sì, che è un cardinale. Io mi sia venuto a noi. Basta. Basta. Anche stamattina si è fatto un troiaio, che peggio poteva essere mai. Cato.